Autobiografia di un campione, Gianni Rivera fa Enzo, una grande festa per i tifosi del Milan ma soprattutto per gli amanti dello sport e il grande calcio. Gianni Rivera ha pubblicato questo bellissimo volume che ripercorre tutta la sua vita di grande atleta, di grande uomo. Io non posso dire più niente, dopo quello che ha detto va bene così, ho deciso di fare questo libro, di fatto fisicamente l'ho fatto mia moglie perché la grafica l'ha fatta tutta lei, raccoltando la mia storia da quando sono nato fino ai giorni d'oggi e abbiamo deciso di girare l'Italia laddove ci inviteranno per distribuirlo. La vita di Gianni Rivera che scorre in oltre 530 pagine, questo volume ricco di foto, di immagini, di ricordi, di una carriera che è iniziata a casa, nell'Alessandria, proseguita poi nel Milan, in nazionale. Una grande avventura. È stata una bellissima vita, la mia devo dire, sono stato fortunato perché ho messo in pratica la mia passione, l'ho trasformata in professione che è il massimo che può succedere.